Si apre con una richiesta di divorzio dal piano di zona il 2019 per i comuni di Battipaglia, Bellizio, Levano sul Tusciano. Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Battipaglia ha dato il suo via libera al recesso dall'ambito S4 con capofila Ponte Cagnano-Faiano, ritenendolo troppo dispendioso a fronte dei servizi offerti. Di qui la decisione di creare un ambito a sé stante, che avrebbe tutti i requisiti in termini di abitanti e continuità territoriale. Grazie